Bando di servizio civile presso la sezione AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multiple, di Biella. Sono disponibili due posti e c'è tempo fino al 26 di gennaio. La durata del servizio è di 12 mesi e possono aderire ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 e i 28 anni. La partenza prevista per maggio-giugno 2022 prevede un impegno di 1145 ore, ovvero 25 ore settimanali. La sezione aderisce a due progetti di servizio civile, compagni di viaggio al fianco delle persone con sclerosi multipla per la ripartenza dopo la pandemia. Questo progetto ha tra i propri obiettivi quello di garantire alle persone un livello di qualità di vita corrispondente alle proprie aspettative, supportandone nel mantenimento delle attività quotidiane. Prevede ad esempio servizi come accompagnamento con automezzi attrezzati per necessità sanitarie di benessere, interventi di supporto domiciliare, azione continuativa per decifrare e catalogare i bisogni delle persone. Ed il secondo coinvolge la persona con sclerosi multipla, protagonista della costruzione del futuro. Il secondo progetto ha tra i propri obiettivi quello di garantire continuità di relazione a tutte le persone nuove con sclerosi multipla, in particolare quelle che si sono rivolte per la prima volta ad AISM, per cui si tratterà ad esempio di implementare un sistema di risposte più sostenibile sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista organizzativo. L'importo mensile corrisposto sarà di 444 euro netti e la domanda dovrà essere compilata online entro il 26 gennaio.